La nostra inchiesta sul patrimonio culturale italiano negli Stati Uniti non poteva non iniziare dall'Istituto Italiano di Cultura diretto dal professor Fabio Finotti, un direttore di Chiara Fama che da poco più di un anno dirige questa struttura fondata dal governo italiano nel 1961 e oggi opera sotto legge del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale nei rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti. Direttore, all'Italia quella tradizionale, quella lì dei Petrarche e dei Dante per intenderci, si affianca una nuova Italia, un'Italia diversa, un'Italia che si basa sulla cultura degli italoamericani. Ecco, secondo lei quanto è importante portare all'estero anche questa, chiamiamola, seconda Italia? Allora, io credo che soprattutto noi dobbiamo pensare all'Italia come un luogo di molteplici linguaggi. Noi portiamo all'estero non solamente la lingua italiana, la cultura italiana, Dante, Petrarca, Leopardi, Montale, i primi Nobel che abbiamo, ma dobbiamo cercare di far conoscere tutti i linguaggi dell'italianità, dal linguaggio più quotidiano che è la cucina, il cibo, al linguaggio più noto forse negli Stati Uniti che è la moda, al linguaggio della tecnologia e della scienza perché l'Italia è anche un grande motore di innovazione in campo globale. Ed è questa ricchezza, io credo, che risponde all'idea di quella che il Ministero si chiama la promozione integrata, integrare le varie facce dell'Italia e farle scoprire all'estero e soprattutto far riconoscere un'Italia che è fatta da più Italie, cioè da più realtà locali, regionali, un'Italia molto più ricca di quella degli stereotipi che si conosce insomma in America e che magari unisce la pizza col mandolino, Venezia con Napoli. Un'Italia che poi è anche poi la base, possiamo dire, dell'italicità, come ama dire Bassetti. L'italicità che significa questa passione per l'Italia che porta molti all'estero a sentirsi e a dirsi italiani anche se non lo sono di nascita, ma l'Italia è un potere di attrazione che molti diventano italiani per cultura e decidono di sostenere per esempio le nostre iniziative di mangiare italiano, parlare italiano, seguire la musica italiana. Ecco, noi dobbiamo rivolgerci da un lato ovviamente agli italo-americani e discendenti degli italiani che sono venuti qui, ma anche a questo patrimonio incredibile da un punto di vista antropologico a questo pubblico vastissimo di italici che si attende di conoscere meglio l'Italia e che noi dobbiamo, come dire, da un lato informare portando l'Italia a loro, dall'altro trasferire portando gli italici in Italia e facendo insomma un lavoro che anche sostiene, deve sostenere tutte le nostre iniziative in Italia da un punto di vista culturale e turistico. Che importanza dà a trasferire la cultura italiana in un ambito multiculturale? Ecco, quindi mischiando tradizioni ed anche ovviamente storia. Allora, New York è un posto, è un luogo perfetto per questa mescolanza multiculturale perché gli americani non amano l'immersione totale per esempio nel passato, amano tantissimo le commissioni tra passato e presente, tra linguaggio e linguaggio, lo si vede anche andando nelle gallerie d'arte. Spesso è interessante come l'arte americana riprenda l'arte italiana e abbiamo fatto un ciclo di lezioni da questo punto di vista, rinnovandola, trasformandola e adattandola al presente. Ecco, noi vogliamo dare l'idea di un'Italia in trasformazione, anche superando le barriere tra linguaggio e linguaggio. E facendo questo, in realtà, noi facciamo quello che l'Italia ha sempre fatto, perché dal rinascimento, pensiamo, non so, a Leonardo da Vinci, fino al futurismo, fino al contemporaneo, l'Italia ha sempre prodotto delle linee di azione interessantissime in cui i diversi linguaggi si univano. Pensiamo, appunto, solo e semplicemente a Leonardo, che va dalla pittura, alla scultura, alla scienza, alla matematica e via dicendo, o all'idea della ricostruzione futurista del mondo, che ugualmente tocca tutti gli aspetti della realtà. New York da sempre era vista come un luogo d'incontro. Ovviamente questa caratteristica è stata fortemente condizionata dalla recente pandemia. Pandemia che lei, a guida dell'Istituto, ha brillantemente superato con la creazione delle stanze italiane. Ora che siamo, diciamo, in una fase dove si è stabilizzato questo fenomeno, qui si potrebbe forse addirittura migliorarsi? Certo, lei ha perfettamente ragione. L'idea non è quella di tornare indietro, perché la pandemia ci ha insegnato, purtroppo, nella difficoltà della situazione ci ha insegnato moltissime cose. Ci ha insegnato, per esempio, a lavorare molto con eventi online e non solo con eventi in presenza. Ci ha insegnato a dare forma a questi eventi online, non il classico Zoom con l'immagine che va e viene, ma insomma costruendo degli eventi che abbiano anche una loro eleganza. ci ha insegnato, insomma, a lavorare in un modo che oggi si direbbe ibrido, e cioè dove l'elemento in presenza si unisce all'elemento in distanza. E questo è fondamentale, perché ci permette di creare per un evento, sia una mostra, sia una conferenza, sia un concerto e via dicendo, il contributo di persone che stanno distanti e parlare a persone che stiano distanti. New York riprende in questo senso la sua funzione di grande centro globale, perché quello che viene fatto qui, attraverso queste nuove modalità online, permette di raggiungere un pubblico che non sta solamente a New York. L'anno 2024 sarà l'anno delle radici italiane. Lei che mi consente al termine è un direttore visionario, immagina un ritorno alle radici non solamente biologico, ma soprattutto culturale. E se sì, in che modo, che consiglio darebbe? Allora, parlando di radici, abbiamo saputo da due o tre giorni che il premio Nobel per la medicina è stato dato a un medico svedese che si è occupato dell'antico DNA, di questa sorta di archeologia dell'uomo. E noi, un mese e mezzo fa, abbiamo dedicato proprio una conferenza all'antico DNA dell'Europa e dell'Italia in particolare. Quindi siamo andati realmente alle radici della nostra storia. Per quello che mi riguarda, io penso che noi dobbiamo lavorare moltissimo sulla contaminazione di piani diversi. All'alta cultura deve unirsi la riscoperta della cultura quotidiana e di una cultura quotidiana che spesso innervava proprio la cultura degli immigrati che è stata spesso portata qui dagli immigrati. Cosa significa l'immigrazione, per esempio, da un centro, lei è napoletano, mi pare, no? Da un centro come Napoli, che cosa portavano qui gli immigrati? Oltre a se stessi, alla loro lingua, al loro patrimonio di tradizioni, alla loro cultura gastronomica e cultura sociale. Portavano anche dei legami nuovi con l'economia. E allora è anche quello che noi dobbiamo illuminare e portare. Quindi stiamo pensando a una mostra proprio dedicata, in un caso specifico, proprio all'immigrazione da Napoli, alla riscoperta delle radici. Ma altre sono le radici importanti che hanno innervato la cultura globale. Un'altra mostra, un'altra attività, sarà legata a un territorio a me più vicino, cioè al Veneto, alle ville venete, che sono state un modulo fondamentale per l'America. Pensiamo a Casa Bianca, pensiamo a tutte le costruzioni di Jefferson e via dicendo. E che avevano anche un significato politico. Anche in quel caso riscopriamo, da un lato, le radici dell'Italia, dall'altro, le radici di una cultura internazionale e in particolare della cultura americana. Per cui scoprire, io vorrei questo, che gli americani che vengono qui dicessero, uscendo dagli istituti di cultura, non solo abbiamo scoperto l'Italia, ma abbiamo scoperto noi stessi. Grazie. 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 Grazie.